Per gli amici che ci seguono sul blog di Corliano e poi ancora su Telecassano sul canale 92 dobbiamo dare una informazione preliminare. Siamo nel santuario di San Francesco di Paola in Corliano. Però vorrei aggiungere una nota particolare. Siamo nella parte, come dire, più intima e più nuova del santuario. Una cappella ricavata in uno spazio già esistente da padre Giovanni Cozzolino. Padre Giovanni Cozzolino ha voluto in questo spazio, sulle tre pareti e sul tetto, riscrivere in forma pittorica, chiara e sintetica la gran parte della storia di San Francesco di Paola a Corliano, per cui poi dalle inquadrature che gli amici vedranno troveranno i benefattori di San Francesco, troveranno i santi, troveranno i frati di San Francesco di Paola che tanto bene hanno fatto a Corliano e in tutto il mondo francescano. Qui con me c'è padre Giovanni Cozzolino, reduce anche di alcune belle avventure di cui parleremo dopo. La costruzione anche quest'anno di un presepe vivente, anche se, come dire, per onorare la cronaca una costruzione tormentata un po' quest'anno, ma forse proprio per questo ancora più bella e gustosa sarà. E poi la presentazione della sua ultima opera, storica e letteraria, ma ne parliamo con calma. Per intanto cerchiamo di gustare questa cappelletta con la storia di San Francesco di Paola e i Corlianesi. Ecco, a padre Giovanni Cozzolino. Allora io saluto tutti e mando già gli auguri di Natale a coloro che ci seguono. Da questo è che è un luogo sacro, è un santuario nel santuario, dico io. E certamente con la benedizione di San Francesco, come vedete, una statua molto bella che risana al 1800, però ha il costato di San Francesco custodito all'inderno e le altre reliquie. In particolare ci tengo a dire il crocifisso che lui portava sempre con sé sul bastone. Niente, l'anno scorso ho avuto l'idea perché studiando so che c'era la cappella di San Francesco che dava sul viale di membranza, però poi cosa è successo? Per allargare lì hanno ristretto e quindi la cappella dell'eliquia è scombarsa. E allora te la rifacciamo qui. L'idea è stata quella di rappresentare la Chiesa tutta intera. Quindi, come vedete al soffitto, abbiamo i santi minimi e i santi affiliati all'ordine dei minimi, o terziari minimi, che veramente danno lustro alla spiritualità minima di San Francesco di Paola. Tanti non sono conosciuti, però immagino San Daniele del Comboni, che a Roma fece la professione nelle mani del generale, c'è la Monica Santa e poi c'è il pareggiorolo Molinari, che io ritengo un venerabile attualmente dell'ordine dei minimi, ma io le trovai le ossa neve anni fa nel romitorio, ma per me è un grande santo. E poi la Chiesa del Paradiso, dove tutti siamo orientati, nella terza venuta del Natale, che era la seconda, che era il Paradiso. E man mano che si faceva qui, poi mi è venuta l'idea di rappresentare, quindi la Chiesa che cammina su questa terra, e la Chiesa, come poi nella folla dei benefattori, si può vedere all'indietro i benefattori defunti, quelli che attualmente sono santi, ma nello sfondo si vede una folla immensa, cattente di riconoscersi come popolo di Dio. Devo dire un grazie veramente a chi ha realizzato quest'opera, l'artista Yuri Kuku, che è stato anche premiato per questo, come al maestro Giorgio Pagnotta, che è stato in miracoloso questa cappella, perché fare anche l'opera linea non era facile. All'inizio ha detto che non è cosa mia, ma in un mese è stato fatto tutto, incredulo anche lui di essere riuscito in quest'opera, come anche l'artista Yuri, che ha detto che qui ci vogliono tre o quattro mesi, ma in un mese è riuscito a farlo, ma non solo. Man mano io che davo le idee, poi scendevo a controllare, e notavo che ognuno non era al posto che io dicevo. L'artista mi ha detto no, lì mi è uscito e lì rimane, quindi ognuno si è scelto il suo posto. Tra i benefattori, ecco, qui emerge San Giovanni Paolo II, abbiamo messo i benefattori dei fondi di Cogliano, almeno quelli che io mi sono ricordato, sì da quando ero piccolo, per cui c'è dalla cuoca che mi ricordo, Zia Antonietta Costa, mi pare, ma poi i benefattori grandi di questo convento, dalla Terzi, notalezza Terzi, abbiamo poi Don Giccio Policastri, abbiamo l'avvocata Atanasio, e Sosto che invece, tanto per questo santoario, perché morì poi in modo prematuro. Il fattore, il fattore è un personaggio che lavorava molto per la festa di San Francesco, ma anche per le quest insieme a Fra Giovanni e Lagana, e questo anche i figli stanno continuando, quindi è molto bello questo. Avrei tanto da dire, però è uscito anche il libro di queste persone, come anche qui dei frati e dei santi, quindi proprio in questi giorni ho messo in vendita il libro, per cui c'è un filo conduttore, alla fine vi, anche io mi sono meravigliato, mi sono accorto e ho detto, ma sono tutti santi, cioè il Signore da tutto il, quel tempo è necessario per convertirsi. Allora c'è altri personaggi, ecco qui mi trovo con i miei confratelli, minimi con gli anessi, vescovi minimi, con Papa Francesco, ci sono anche io, cito solo Parabialci, un tipo curioso, che io mi ricordo, un po' burbero, un po' austero, ma alla fine, quando è andata Paola, tutto tremante, per l'età, tutto così, burbero come era prima, non lo era più. E' cambiato, molto disponibile, ha confessato giornate intere, puntuale, sempre al coro, e sempre disponibile con tutti. Vedete, il Signore concede il tempo a tutti, e quando uno è pronto, il Signore lo chiama, lo chiama con sé. E' quel famoso numero 40, che io dico, della vita quaresimale, che sta a indicare la completezza della propria vita. Quando siamo complete, e abbiamo raggiunto una certa elevatezza spirituale, e il Signore ci prende con sé. Certo, oggi sta avvicinando il Santo Natale, quindi abbiamo coinvolto tante persone, i giovani hanno fatto un presepe molto bello, nel Chiostro, e ne approfitto per dirlo, perché quest'anno, il 2019, ricordano i 500 anni della santità, dichiarato ufficialmente dal Leone Deci, in Vaticano, e quindi stiamo richiamando alla memoria, ciò che San Francesco ha fatto qui. per cui la festa, che lo annuncia ufficialmente a Cogliano, non è quest'anno il 25, aprile, ma sarà dal 28 al primo maggio. Il primo maggio capita proprio a Cogliano, questo che per me è un segno, San Francesco vuole essere festeggiato a Cogliano, e quindi stiamo disponendo tante iniziative, tra cui una è questa della cappella, poi io invito tutti, domenica dopo la messa delle sei e mezzo, noi inauguriamo al Romitorio, l'Oasi San Francesco di Paolo, l'ho chiamata, uno spazio bello, disponibile, contenente tutti i miracoli del nostro Santo sulla natura e sul creato, perché quello è uno spazio sacro, uno spazio dove uno si può rassenerare, contemplare, e svolgere anche varie attività. si accennava per sempre vivente. Ecco, io devo ringraziare il commissario Prevettizio Magnato, che è intervenuto, perché alcuni malintesi per questa legge antipanica, ma risalendo la precedente amministrazione, mi avevano scoraggiato nel fare questa iniziativa, perché ci vogliono soldi, e allora tutti questi soldi non li avete, e ti rilungiamo. Ma poi siamo stati convocati a Francesco dal commissario, una persona molto gentile, e ha detto non di preoccupare, dice, fallo, veramente, siccome ci vuole più di due mesi di preparazione, allora quest'anno facciamo solo una natività vivente presso il romitorio, che sarà molto, ma molto bella. e quindi io approfitto per dirvi questo, non perdete questa occasione dell'Ovasi, sono avvenimenti storici, e questo libro mio, che attualmente è in vendita, perché tutti i ricavati, io lo darò sia per l'Ovasi, e sia per preparare la festa di San Francesco, perché Cogliano deve essere all'altezza di questo evento. e al tempo stesso gli auguri di un Santo Natale, dicevo storicamente, sono tre le venute del Signore, storicamente, quando è nato, eccetera, oltre due mila anni fa, lo sappiamo tutti, ma noi non è un ricordo storico che facciamo, siamo in attesa della seconda venuta, la parousia, quando il Signore verrà nella gloria e ci chiamerà a tutti, ma nel tempo intermedio, come è il nostro, liturgicamente, nasce per noi, ecco, in questo Santo Natale del 2018. Io vi auguro di vivere il Santo Natale che spesso è ridotto a una cosa consumistica, spesso è ridotto ai regali, a comprare, a fare, la gente sa fare per tante cose, ma dimentica, dimentica proprio colui che nasce, Gesù, quindi prima il Natale e poi tutto il resto. Io ringrazio la Telecassano che mi dà questa opportunità di queste iniziative che stiamo facendo, della bellezza di questa cappella venite a visitare, io la chiamo il mio paradiso. Tempo libero, lo metto qui e veramente devo dire che nel silenzio mi concentro e poi questi sono volti che parlano, volti che hanno dato molto accogliano, di una accogliana di cui ho cercato di conservare la memoria perché attualmente non c'è più, sono persone che hanno vissuto fino agli anni 90 e ormai sono nel paradiso però è una testimonianza. Ecco, non sbarrire mai la memoria di chi ci ha preceduto come anche i padri minimi da 50 in poi ho messo in risalto tutti i correttori che hanno fatto di questa accogliana e di questo quarto enamo un centro veramente di formazione non solo evangelica non solo alla scuola della Chiesa ma anche di formazione sociale e politica invitando e concludo con quella lettera che oggi Papa Francesco diceva come messaggio della pace come essere un buon politico ma a mio avviso già il nostro San Francesco l'aveva scritto quella lettera che ho messo davanti alla Chiesa quando dice di amare il bene comune di non essere corrotti di essere veramente a servizio della comunità e quindi ci auguriamo tutto ciò a livello proprio globale e mondiale siamo in una società fluida però quando abbiamo questi riferimenti stabili come i santi come persone che hanno saputo vivere i valori del Vangelo anche la piena umanità dell'essere uomo allora possiamo andare avanti nella costruzione di un mondo sempre più bello più buono e più giusto grazie a Giulio grazie alla TV padre Giovanni caro non è la prima volta che noi siamo ospitati qui nella casa di San Francesco di Paola in Corliano e ogni qualvolta ritorniamo in questa casa beh io devo dire che pur essendo abituato a visitare altre chiese ed è vero ogni chiesa è la casa è la casa di Dio però che volete la casa di San Francesco di Paola in Corliano oltre che essere casa di Dio è anche casa nostra perché qui sono stati siamo stati noi io il mio primo come dire le mie prime adunanze come si chiamavano una volta il catechismo l'ho fatto l'ho fatto qui come dire le prime allora le preghiere si chiamavano cose di Dio le prime cose di Dio le preghiere basilari le ho apprese in questo santuario qui ho fatto anche la mia prima comunione beh è chiaro che io mi senta un po' o anche tanto emozionato emozionato che cosa posso dire noi abbiamo un debito nei confronti dei frati minimi di San Francesco e aggiungo che finché ci sarà vita in questo convento e in questa chiesa Corigliano non morirà Corigliano non morirà perché voi frati di San Francesco di Paola collocati qui in questa parte più alta del paese è come se teneste il paese ed evitate con la vostra presenza che si sciolga non dico soltanto materialmente ma soprattutto spiritualmente vorrei aggiungere una priera a quella già fatta da padre Giovanni ai Corianesi ai giovani soprattutto recatevi qui visitate questa cappelletta restaurata di recente da padre Giovanni e che padre Giovanni chiamava il mio paradiso diceva poco fa il mio paradiso perché qui c'è la storia dei minimi e c'è la storia anche di Corigliano se posso aggiungere una nota recatevi qui con una persona che abbia una certa età perché una persona che di una certa età vinticherà ecco conosce riconosce questi uomini queste donne che come dire sotto le ali di San Francesco hanno fatto del bene alla Chiesa e alla comunità tutta di Corigliano avrete anche la possibilità di riconoscere tanti frati tanti frati che oggi non ci sono più e tra i tanti voglio ricordare per me il sempre profetico padre Biaggio per me era uomo di profezia e per tanti motivi anche anche personale il burbero diceva padre Giovanni burbero ma come tutti i burberi i burberi sincero sinceri uomo grande 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 veramente veramente buono padre 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 Antonio che ci ha lasciati da poco e che io ricordo come alternasse la preghiera alle sinfonie di di Beethoven e alla lettura dei promessi sposi lo trovavo sempre così tra la preghiera la musica e la e la letteratura e poi di recente mi si è consentito ricordare il coriglianese ecco il nostro padre padre Rocco padre Rocco benvenuto al quale sono stato legato da tante vicende storiche e storiche letterarie e che mi ha voluto tanto bene mi ha assistito anche in alcune ricerche e se per qualche motivo forse ho mancato nei suoi confronti che lui mi perdoni dal paradiso e mi guardi guardi me e tutti i coriglianesi che lo hanno conosciuto e gli hanno gli hanno voluto bene grazie ancora grazie ancora e che questo Natale sia un Natale come dire che ci porti la gioia di San Francesco di Paola una gioia che deve necessariamente essere fatto di essere fatta di raccoglimento di priera di discrezione che si come dire si contraddistingua rispetto alla gioia che non è gioia ma è che è piacere montano fatto di rumore spettacolo eccetera cose che a noi cose che a noi cose che a noi che passano e cose che a noi quindi non ci interessano non ci interessano grazie grazie ancora e do il microfono a padre Giovanni per un saluto che sia anche benedizione natalizia per tutte le nostre famiglie grazie niente il saluto che vorrei farvi anche io sono emozionato come Giulio perché io da quando avevo sei anni quindi da 64 queste persone me le ricordo tutte e quindi sono anche io emozionato però il il saluto che vorrei fare a tutti è quello che estasiava San Francesco anche qui a Cognano non riusciva a comprendere l'amore di un Dio che si fa uomo per noi dice l'ardone infinito per noi i vermiciatoli e lo contemplava sia nella natività la fresca che poi avevo scoperto due anni fa e sia nel romitorio con il crocifisso l'augurio che faccio a tutti che sia un santo natale che davvero Gesù bambino rinasca nei cuori di ciascuno di noi e che a tutti voi ecco vi accompagni diceva San Francesco sempre la grazia di Gesù Cristo che è il più grande tesoro che i popoli possono avere e quindi questa benedizione io la invio a tutti anche per il nuovo anno del 1519 che è l'anno della santità di San Francesco ma anche l'anno ci auguriamo tutti della rinascita di questa nostra società grazie a tutti grazie all'avvocato Matteo Monte che ha messo a nostra disposizione il suo spazio in Piazza Grande e in Telecastano su Canale 92 grazie e tanti auguri grazie a tutti grazie a tutti